Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono code tra il Bibio per la 11 e Firenze Scandicci, con conseguenti code in uscita allo svincolo di Firenze Scandicci. Sulla A11 code per viabilità esterna che non ricevi tra Firenze Nord e Firenze Peritola in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPI lì ancora per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze via Dotto dell'Indiano e Scandicci in direzione Mare e tra Lastra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze via dei Grecchi è momentaneamente chiusa per un crollo. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!